Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti, resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Kanyaman continua ad essere protagonista di molteplici gossip, uno di questi riguarda una sua presunta fiamma. Nelle ultime ore si è tanto parlato della love story tra l'attrice del Paradiso delle Signore, Francesca Del Fa, e l'attore turco. A quasi un anno dalla foto dei due che ha fatto il giro del web, la Irene Cipriani della nota serie Rai ha rotto il silenzio svelando tutta la verità sul suo rapporto con il collega turco. In un'intervista rilasciata al settimanale di Più TV, Francesca Del Fa ha affermato che il gossip su Kanyaman non è altro che pettegolezzo senza fondamento. La 32enne ha spiegato di essere stata invitata la scorsa estate ad un festival in Sardegna insieme a Roberto Farnesi. L'Umberto Guarnieri del Paradiso delle Signore. Quest'ultimo ha avuto un contrattempo ed è arrivato più tardi del previsto. Francesca Del Fa è stata quindi accolta da un gruppo di persone tra cui Kanyaman, che aveva notato che la ragazza era sola. La star del Paradiso delle Signore ha dunque rivelato. Una semplice foto scattata durante una cena, in cui eravamo vicini, ha fatto scoppiare un protiferio, ma tra me e Kahn non c'è stato nulla di romantico. È nata solo una simpatia, un'amicizia.